Esatto, e li fai così. Ah, non lo so come si fa. Mozart ha passato un periodo in Florida, tra l'altro. Qui, Ghetto. Giocava come Quartner, ecco. Sì, perché c'aveva il casco. Ecco. Tieno dietro, tieno dietro. Assommina Mozart. Così sembra più Mozart Bico. Il tipico suonatore africano. E l'Africa, Mozambico. Ma l'amico che io sappia in Africa, se non l'ha venduto. L'ho comprato i russi. Anzi ci sono passati sopravolando. Vabbè, sai cosa fa? È un po' che sto riprendendo, eh, lo so. Come è un po' che sei? Sai cosa ci fa? Mozart di corsa per un maglio pubblico. Una marcia alla turca. Bumumaria. Bumumaria.